E' stata fissata per lunedì 22 febbraio l'udienza sul ricorso presentato al Tribunale del Riesame di Firenze dalla difesa di Alex Danut. Il quarantenne romeno che il 31 gennaio scorso alla guida della sua minicar investì ed uccise Letizia Fiacchini, una bambina di 10 anni, e la mamma Magena. Per l'uomo scattò subito l'arresto. La sera stessa dell'incidente, il quarantenne, dopo gli accertamenti e l'esame del tasso alcolemico, che risultò tre volte superiore a quello consentito, fu portato nella casa circondariale a retina di San Benedetto, dove si trova ancora oggi, dopo la convalida dell'arresto da parte del GIP Loprete, che accolse la richiesta di custodia cautelare avanzata dal PM Iannelli. A breve i giudici fiorentini decideranno se mantenere la misura cautelare attuale oppure optare per una meno restrittiva, come richiesto dalla stessa difesa del quarantenne. Intanto arriva il commento dell'avvocato della famiglia Fiacchini sugli ultimi sviluppi della drammatica vicenda. La presa dalla stampa non ci può mettere bocca perché non ci riguarda in questo momento questa situazione cautelare personale del Danut, quindi la famiglia ha gesto solo giustizia e si aspetta giustizia. I tempi sono quelli che sono, staremo a vedere.